Ciao ragazzi benti questo è un nuovissimo videozzo dopo il primo di oggi dove abbiamo parlato della costruzione anzi ricostruzione sembra di magazzino muffito che vi lascio qua sopra nella scheda cliccabile Ragazzi oggi ho fatto data mining personalmente perché voglio assicurarmi che quell'arma che sta girando un po' da stamattina sia vera o meno Sto parlando di questa nuova arma calibro, scusate, nuova arma calibro 50, nuovo cecchino ragazzi, nuovo sniper Ho messo mani nel codice sorgente di Fortnite del game, del client, inserendo la parola chiave 50 cal Calibro 50, ragazzi sembra tutto vero, prossimamente dovremo avere questa nuova arma, questo nuovo cecchino, tantissima roba Io ho giocato in passata Warrock a darti combat, combat arms, ragazzi ho sempre amato utilizzare i fucili da cecchino E infatti se mi seguite su mobile, spesso anche nelle live, vedete che sono abbastanza bravo con il cecchino soprattutto È la mia arma preferita, è questa nuova calibro 50 SK, raga, è troppo bella, è la mia nuova arma preferita Ve lo dico già subito, non vedo l'ora di provarla Prossimamente in teoria su battaglia reale sono dei leaks, ma ragazzi sono nel file del game Quindi, raga, sappiamo che i file di gioco non mentono Ragazzi vi sto facendo vedere qualche immaginetta, questa sarebbe l'arma della vita reale, no? E vi porto anche un piccolo spezzone di video preso da YouTube, ok? Crediti, vi lascio chiaramente qua sotto in descrizione in cui c'è, ragazzi, uno sparo reale Raga, giusto per darvi un'idea di quanto sia potente Quindi, sono andato anche sul sito di Fortnite Tracker, sul database loro, ok? E ho visto un po' quali sono i danni, giusto per rimembrare del Bolt Action Come state guardando, raga, la rarità più alta, leggendaria, ha 116 di danno e 290 in testa Quindi mi aspetto, siccome sappiamo che la calibro 50 dovrebbe essere più potente Spero di non sbagliarmi, al massimo fatemi sapere qua sotto nei commenti Da quel caso, raga, dovrebbe essere molto più potente Mi aspetto di vedere almeno 10 danni in più Anzi, forse 10 anche troppo, non lo so Fatemi sapere, secondo voi, quanto toglierà questa nuova arma se magari fosse leggendaria Vediamo un po', raga, che danni mi scrivete qua sotto nei commenti, ok? Tra l'altro la modalità parco giochi ancora non c'è, raga Sto registrando che sono le 2 e un quarto di pomeriggio Di oggi 25 luglio, ma tranquilli Entro stasera dovremo avere la modalità Anche perché è stato tutto ufficialmente detto dalla Epic Games Proprio l'altro ieri, già vi ho fatto un video, raga Quindi, mi raccomando, restate sintonizzati Poi vorrei portarvi anche qualche live, anche su Parco Giochi Ma anche su Salva al Mondo, perché voglio sbloccare la skin di compleanno Raga, grazie per la visione Aspetto la vostra riguardo a questo nuovo SK Sniper, cecchino, calibro 50 Tantissima roba, non vedo l'ora di provare quest'arma, raga Davvero non vedo l'ora Ci vediamo presto, ciao!